Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi Siamo tornati su Minecraft Ita, settima stagione In compagnia oggi Di un nuovo YouTuber Aspetta devo spoilerare un attimo Mr.Emerald Salve, ma senti Io non trovo oggetti utili dentro questo Coso. Non ci sono oggetti utili Allora, perché vanno Aspetta, 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 ti do Ah, intanto qui c'è una spadona in diamante Pronta Uh, è là C'è un knockback, non è il massimo Poi qui c'è tutto il ferro che vuoi a disposizione Ci sono un po' di diamanti, oro, qualsiasi cosa Per creare Armature e roba varia Perché sì, effettivamente tante armature qua dietro non ce l'ho C'è una di ferro ma è mezza rotta Non so se È OP, per carità, però è mezza rotta Eh vabbè, fa nulla Smollami quella, ok È OP, è decisamente OP Allora, a posto Un sacco di roba sopra Ti do un po' di polli, qualche ender pearl Che non fa mai male Esatto Ecco, l'ho buttata tutto per terra E... Un picconcino e sono a posto Che cosa? Un picconcino e sono a posto Un picconcino, un picconcino Vediamo se ho qualche picconcino Nuovo di zecca Lo sai che mi sa non ce l'ho Ne facciamo uno, ne creiamo Perché ho un sacco di enchant Ok E posso farmi un altro picconcino Un'altra picca da lavoro Quindi provvediamo subito Che sta tornando giù da te Ecco qua il picconcione Un piccione, bim Nice, un diamante È di lusso È certo, di lusso Qui tutta roba di lusso Ovviamente Eh la vado Allora Ci andiamo a prendere i materiali Che ci serviranno poi per il nostro progetto Che come abbiamo detto Cioè l'ho detto a te Non l'ho detto a loro Esatto, sì Esatto, sì Il progetto di oggi Che cosa? Sarà Una macchina volante Che ci permetterà di andare Dalla piattaforma di spawn del land All'end city Perfetto, ok Il punto è Allora Ci serviranno pochissimi blocchi In verità Perché ci serviranno Due sticky piston Due observer E due blocchi di slime Slime Tra l'altro Niente di più Perché effettivamente Si possono creare macchine volanti Molto molto easy Prendiamo qualche altro blocco Per costruirci la macchina intorno Questo non va Eh sì, infatti Sarà un viaggione lungo Effettivamente Quindi Eh sì Saranno almeno Un mille blocchi Più da percorrere Dobbiamo ingannare il tempo In qualche modo Un mille blocchi Che cosa facciamo Non lo so Facciamo un tavolinetto E giochiamo a carte In casa Una partita alla briscola Esatto, sì Potrebbe aiutare Vai, andiamo Non è proprio Lontanissimo Saranno Eh 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 Migliaio di blocchi Ah Ok, va bene Va bene Purtroppo C'è un elitra sola Ah, eh Vabbè Perché l'ho preso Nel scorso episodio Ma ne ho trovata una soltanto E effettivamente Due sarebbero state Decisamente Decisamente comode Cioè adesso Non sai quanto volavamo bene Eh sì, lo so Immagino Spero di aver preso tutto Sì, dentro Due observer Due sticky piston E due slime block I blocchi cello C'è anche le shulker box A posto Ok Una torcia I blocchi in redstone No, non servono Non serve? No Observer fanno tutto loro Ah, ok Giusto Sì, sì Insomma di redstone Sì, sì Però comunque Funziona Allora ragazzuoli Siamo quasi arrivati Nel land Cioè almeno Alla fortezza del land Poi non sono Pienamente sicuro Di quello che dico C'è un creeper Che ti sta tankando Io lo spadavo Ucciso malamente io Allora Ci dovremmo Guarda Dovrebbero esserci Magari delle voragini All'interno del terreno Qualcosa che ho scavato Si vede, no? Sono due blocchi scavati Da me Ok Per entrare Dato che effettivamente Stavamo proprio vicini Oppure ne posso scavare altri Perché tanta ravine Bene o male Ci siamo Meno 5 5 e 40 Meno 1.000 E 4 Dovrebbe essere Più o meno le coordinate Sai che ci sono Vedo delle luci là sotto No, un creeper Ok, bene Mi ha esploso un creeper vicino Vedete le luci Ah no È della lava Eh, infatti Si dovrebbe esserci Qui perché ci sono 6 miliardi di scheletri Che mi danno fastidio Però ci sono le pegole Quindi possiamo fare Quindi Meno 5 e 40 Detto Meno 5 e 40 Meno 1.400 E 30 Dovrebbe essere Aspetta Dovevo coordinarci Incastrati Aspetta Dobbiamo coordinarci Ok, vai, vai Ci sono Allora Pronto 3 2 1 Salta Niente Ce l'abbiamo facendo Sì, ok L'abbiamo fatto Uno l'abbiamo messo Ok, aspetta Questo qui si dovrebbe riuscire a spaccare adesso Ok Perfetto Ok Uno per una cosa Uno per l'altro Perché se no Ci incestiamo malamente Vai, ok Perfetto Ok Eccoci qua nel land Tadam Abbiamo trovato il portale Buttati Ah, ma Proprio Sì, sì, sì Infatti mi ricordavo proprio le coordinate precise E qua dovrei metterci Da qualche parte il portale O qui o lì Ho fatto una cosa alla matrix Pazzesca Sì Perché Ho chiuso la cosa Guarda come ho bloccato la freccia Mi sta arrivando in testa Meraviglioso Ci sono i silverfish Odiosissimi Che poi Il problema dei silverfish È che se li shotti E non li one shot Loro ti fanno risponare Altri silverfish Sì Che io ho voluto tenere il coso Lo spawner Per il semplice fatto Che cazzo è figo lo spawner Secondo me conviene buttarsi nel land Sì, mi sa pure secondo me Bisognerebbe usare del legno Per costruire sta roba Via Ok, via dentro Wow Perfetto Perfetto, eccoci Adesso la macchina Vediamo se mi ricordo come si costruisce Forse sarà il caso di farla un po' più in alto Sì Sì, sì Sì, mi credi, sì Vai, allora Partiamo proprio direttamente da qua Ecco, qua poi non so posso andare bene F3, vediamo un po' Siamo a coordinare Perché sono dei pupazzi di nave? Perché Ah, per l'ender dragon Giammi sì Ah, colpiscono l'ender dragon? In verità te lo distraggono E ti distraggono anche gli enderman E questo è decisamente Decisamente Ah, ok Però le palline di neve non fanno danno No, non fanno danno le palline di neve Però le puoi utilizzare per distruggere I cristalli Nel caso dovessi finire le torce Sì, le fregge le torce Le fregge Le fregge le fregge In che direzione vogliamo andare? Dimmi un po' tu Eh, ah beh Andiamo direttamente per di qua a questo punto Ok E ti per di qua Ah, vi faccio una cosa del genere Tac Così Bene, iniziamo a costruire Allora Costruiamo sta cosa Vediamo un po' se riesco, eh Non assicuro il risultato Tac Tac Ok Dopodiché Vediamo sti due Uno Ok E due Possiamo mettere fino a sei blocchi Extra Oh Che buono Quindi effettivamente Potremmo mettere uno qua Uno qui Ok Questi ovviamente attaccati Si spostano tranquillamente E poi E poi E poi E poi ci se ne sarà uno qui Uno qua sopra Ne possiamo mettere uno in questa direzione Così stiamo tranquilli Ok Ci sei? Ok Si Allora Si dovrebbe muovere Perfetto Ok Appena metto l'altro observer Parte questa cosa qua Ah ok Quindi aspetta Mi metto qua Ok Dove mi devo mettere? Eh dove vuoi? In una delle zone che ho preparato Ok Perché ho paura di cadare Vai Aspetta sei troppo convicino al Devo mettere il blocco sopra Ok Perfetto Cazzo Sono fatto male No 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 Fermalo 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 Non posso fermarlo Non posso fermarlo A parte mi si è duplicato un cosa C'è questo un problema Un problema serio Guarda quanto lagga Guarda Perché ogni tanto lagga Vedi Non so se è un glitch Che è capitato Ma vedi tu Tutti quegli observer Eh no Ne vedo 62 Che vanno e basta Ah no io ne vedo Mi si è buggato Non hai tu l'Elytra? Io no Ce ne ho una soltanto Eh se vai con l'Elytra La posso Lo posso fermare La vai da sopra Rompi il blocco E lo fermi Vado Vado in funzione Esatto Per questa rescue mod Ecco ecco Ci sono Ci sono Ci sono La puoi fare Cazzo Atterrare non è facile Eh no Perché anche il movimento Allora aspetta Fammi andare Sto tentando L'impossibile Ok Ok ci sono quasi Ci sono Quanto No niente Devi avere il piccolo Secondo me in mano E buttarti di cibi contro Col piccolo Mentre spacchi i blocchi No Sei caduto Sta cadendo Ragazzo È fottutamente La figlia Dessa roba Ce la puoi fare Dai Ma tu come fai A vedermi E ancora ti vedo Perché c'ho la L'optifa Sì No Sì ce l'ho 16 Ma fra poco Mi sa che scompare Eh Mi sa scompare Sì È scomparso Bene Eh niente Non ce la faccio Sto precipitando nel vuoto Ok niente Dobbiamo crearne un'altra Probabilmente Dobbiamo crearne un'altra Eccoci qua ragazzuoli Test 2 Dopo mille disavventure Ma perché gli endermen ce l'hanno con me Perché non lo so Ma non li guardo neanche Quale il fatto Ma si arrabbiano senza che tu li guardi Sì Ti giuro è particolare No io Abbiamo fatto amicizia Perché effettivamente Ok Niente Buono Allora proviamo a ricostruire la macchina Stavolta Ok Io ti devi fare una cosa però Facciamola un attimo Tipo verso di là Verso di là Ecco di nuovo un altro Ma che ho fatto Ecco ok Ma perché secondo me tu Loro ti si teletrasportano davanti Tu hittando Non lo so Magari io li prendi Cazzo 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 Eh se ti butto Ciao Rip Ciao Sì si è suicidato umanamente Un enderman Allora in quella direzione la facciamo Che praticamente è uguale Sì verso in quella direzione Vediamo se funziona Come di tutto Tac Tac Così E così Ok Ok A questo punto che cosa dobbiamo fare Dobbiamo rimettere i tuoi observer Uno da una parte Uno dall'altra Esatto Allora Prima devo mettere Quello in cui mi va All'altra direzione Quindi così Ok E poi da quest'altra parte A questo punto guarda Io comunque due blocchi Ce li metto uguale qua intorno Ok Proviamo a salire Vai No Visto E cadi Infatti è un casino Secondo me perché Dobbiamo partire da lontano E poi Ti ci butti sopra Una volta che è partita No perché Cioè praticamente tu Come se slittassi Cioè Non ti va a spostare Quindi secondo me Dove c'è il Il blocco di slime Bisogna mettici un blocchetto Che ti va a spostare Dici Cioè sopra il blocco Aspetta La ricreo Poi mi dici tu Ti ho buttato Esatto Sì sì Ok Vai Ok Secondo me Dovremmo mettere noi Un blocco qua E un blocco qua E tu dovresti mettere E ma lì ci vanno gli observer Se no non mi funziona la macchina Ah E allora noi dobbiamo metterci Praticamente Sopra gli observer Ci potremmo mettere In pratica sì Però non so se Prendermene per favore Però Senta Tac Ok Allora io mi Non lo so No infatti l'ho messo sopra Allora se io metto questo qui Tac Hop Un altro qui Fammi salire Ecco qua Così E così lui Allora dovrebbe spostarli tutti Però certo Vediamo un po' eh Visto Ora funziona Ora funziona Grande Mi devi mettere così in pratica Però se mi metto qua Visto mi butta giù Ci deve essere il blocco che ti Che ti spinge poi Sì Perfetto Ok A sto punto possiamo Partire Sì Praticamente sì Allora observer qua Tac A questo punto devo mettere L'observer In quest'altra direzione Forse Ecco Smettersi sopra i blocchi Perché io Non so se riuscirò a farla Sta roba Tac Ok Ok Siamo partiti Grandi Dovevo stare fermi Se non ci spingiamo E cadiamo nel vuoto E poi lì è la fine Esatto Ok Io mangio Ah Di partire siamo partiti A posto Non so quanto ci vorrà Far sta roba Però Piano piano C'è un problema però Dimmi Non abbiamo portato il tolunetto Con le carte Cazzo no I fanini nemmeno Ci abbiamo Vabbè Infatti ci mettiamo Boh Sui Porca mio Almeno Sui dieci minuti Sì Però ci potremmo mettere Una decina di minuti Sai Poi Ovviamente l'altra Non la raggiungeremo mai Però No infatti Chi sarà l'altro Sto cadendo Sei caduto No No Non me lo dire così No Non ci credo Ma come sei caduto Non lo so Mi sei baccato Stavo tranquillo A cazzo no Mi sono messa Guarda Il telefono Ma hai perso Tutto Mamma Sì Non mi dire niente Che è un momento bruttissimo Questo momento sto E sei morto Distruttivo E quindi hai perso tutti i blocchi L'elitra Allora a parte i blocchi Fotte sega dei blocchi Il problema è L'armatura Cazzo Era meravigliosa Quell'armatura Tanto posso farmare La farm di pesca L'elitra Quello posso capire Che effettivamente Sciurra un po' Cazzo Hai perso tutte le shulker box No Non ci credo Cazzo No Disastro Tu Io sto ancora andando tranquillamente Allora guarda Io tento di Mi riarmo un attimo velocemente Ci vediamo Nell'end Però io passo dal portale Per forza Perché se no ci mette una vita Sì Abbiamo perso tutto Ok vi aggiorno ragazzuoli Che anche Emerald È morto Ciao Fail su fail Questo episodio è stato Un fail continuo Dovremmo Allora Adesso sappiamo Come farla Sta roba Sì Sì Possiamo farla per bene Solo che io non so Come cazzo arrivare All'altra parte Dove sei? Ti stavo venendo a fare Il conto di nuovo Io sono Dove c'è la mesa Eccetera Sì esatto Devi venire verso Casa Cioè un tipo Verso Questa direzione È Est Verso est Io sto puntando Ora Verso ovest Scusa Ho detto una cazzalina Ok quindi verso West Verso west Esatto che è ovest Sì sì E dovresti Arrivare Cioè la prima cosa Che dovresti vedere È o la torre O il castello Non lo so La torre probabilmente Allora ragazzuoli Dopo la morte Malissima Bruttissima Che abbiamo fatto Entrambi Aspetta Ti faccio Vediamo Utilizziamo la metropolitana Per una buona volta Che ci avvicina Un po' A quello che Sarà il nostro Punto d'arrivo Ti faccio Aspetta ti droppo Il minecart Vai Io me ne faccio Un altro What up E ti faccio vedere In che direzione Dobbiamo andare Perché finalmente Finalmente Ha un'utilità Stametropoliana Cioè non che Biamamiam Che è soltanto Per andare un po' Più veloce Allora si Va a destra Di qua in questa direzione Bim Vai Ok Ok Piano piano Ci arriviamo Non ti preoccuparti Allora Tu sei pronto Impostazione Ci sei? Sì Boom Salgo anch'io Non posso salire Prima devo mettere L'observer E poi poter salire Oddio che ansia Allora Buona Questo va messo In questa direzione Giusto Sì Tac Oddio Funziona Ce l'abbiamo fatta Stavolta è per sempre Arriveremo Nel end city Sì Ce la faccia C'è stavolta Ce la facciamo Senta Fammi mettere in f5 Certo E' abbastanza divertente Come cosa Grazie Siamo veramente tantissimo Sulla barchetta Guardate Siamo tosti Mi devo screenshotare Per forza Siamo veramente tostissimi Bello Tu poi con la skin di Jack Sparrow E' perfetto Si sta benissimo Ragazzuoli Ragazzuoli Non mai aveva fatto Non mai registrato La clip in cui sbarcavamo Tutti i vari festeggiamenti E tutto il resto Non abbiamo portato La bandiera però Tipo le missioni lunari C'è sempre una bandiera E' giusto E' vero Ci vuole una bandiera Come la facciamo la bandiera? Aspetta Hai qualche cosa? Io ho tipo Cobblestone E Stonebrick Anche io c'ho Cobblestone Facciamo una bandiera Ah si si Aspetta No 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 Una crafting table però Ecco la bandiera E' venuta anche abbastanza bene Sai? No Guarda c'è Ci stacco Cosa ci sta? Io mi sono rintannato sotto Perché penso di aver guardato In faccia qualche enderman Eccolo Infatti Eccoli Aspetta Asciutando male Eh Bello Va bene Ok va bene uguale Ragazzali penso che per questo video Possa tranquillamente essere tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Ringrazio Emerald per essere venuto nel mio mondo Grazie a te Per farmi compagnia in questa grandissima avventura Che abbiamo portato a termine con successo Ovviamente metto il suo link Il canale Il suo Il canale Il suo link Il link è il suo canale In descrizione Mi raccomando iscrivetevi Fatevi fare bella figura Mi raccomando ragazzali Ecco E quando vuoi Emerald Il mio mondo Ti aspetta Va benissimo Ok grazie mille Ragazzali Un bel mi piace Mi raccomando Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti